Ascoltate! La pietra era stata rimossa. Noi siamo entrate. E il corpo del nostro Signore era... sparito. Come? Il corpo non c'era più. E poi ci sono apparse due figure, due angeli sfolgoranti, come il sole. E uno ha detto, perché cercate tra i morti colui che è voi? È vero! Credetici. Dovete crederci. Li abbiamo visti. Andate a vedere voi stessi. Il sepolcro era vuoto. Il Signore era scomparso. Pietro, devi crederci. Gesù, iscriviti. Riccholli. In ligi conf các sanctiai. behia Grazie a tutti.